Ben ritrovati con il telegiornale di Arezzo TV ancora una truffa del finto carabiniere ma i militari dell'arma hanno colto in flagranza i responsabili che sono stati arrestati a finire nei guai due uomini di origine campana di 45 e 59 anni. L'episodio si è verificato proprio in provincia di Arezzo nella serata di ieri a intervenire sono stati i carabinieri di Poppi coordinati dalla compagnia di Bibbiena. Le modalità spiegano i militari sono sempre le stesse un finto carabiniere telefona alla vittima in questo caso una coppia di anziani dicendo che il figlio anzi la figlia per la precisione aveva fatto un grave incidente investendo una persona e per evitare il peggio appunto c'era da sborsare il denaro. I due anziani si sono spaventati hanno raccolto i risparmi che avevano in casa circa 7 mila euro e 39 oggetti preziosi per un valore di circa 13 mila euro e li hanno consegnati ai due truffatori. Al ritorno a casa però ad aspettare appunto i due truffatori c'erano proprio i carabinieri di Poppi che avevano individuato l'auto dei due. Al loro rientro come dicevamo sono stati bloccati e nel borzone che avevano con sé è stata scoperta la refurtiva. E' ovviamente recuperata per i due si sono spalancate le porte del carcere. Nasconde negli slip un gemmer per inibire i telecomandi delle auto è stato denunciato. Sentiamo. Avevano nascosto due gemmer ovvero disturbatori di frequenza uno nella manica del maione e l'altro addirittura negli slip ma prima di colpire si sono imbattuti negli agenti della polizia stradale di Arezzo che li hanno scoperti e denunciati. A finire nei guai due uomini che nei giorni del ponte dell'Immacolata stavano percorrendo il tratto aretino della 1. Erano da poco passate le 13 dello scorso venerdì quando gli agenti hanno fermato l'auto con a bordo i due per un controllo. Dalla perquisizione sono così saltati fuori i due gemmer, strumenti grazie ai quali ingannavano i proprietari delle vetture che credevano di aver chiuso le serrature ma in realtà erano rimaste aperte in balia dei malintenzionati. Gli strumenti sono stati sequestrati e i due denunciati. Nel giorno dell'Immacolata poi gli agenti hanno arrestato un cittadino originario dell'Est Europa perché è in possesso di una carta d'identità valida per l'espatrio falsa. A finire in manette due giorni dopo un cittadino sudamericano che ha esibito agli agenti un passaporto falso. Denunciato anche un connazionale perché è risultato contravventore alla normativa in materia di ingresso sul territorio nazionale. In burnout 6 infermieri su 10 qualità delle cure e sicurezza dei pazienti sarebbero a rischio. Il 45% si dichiara pronto a lasciare l'ospedale per insoddisfazione lavorativa dovuta a basse retribuzioni, mancanza di carriera e carenza di personale. L'analisi del grado di stress dei professionisti poi rapportato anche con le possibili ricadute sull'assistenza è stata raccolta nello studio bene realizzato dall'Università di Genova con il sostegno della Federazione Nazionale degli Infermieri. La carenza di personale è il motivo prevalente delle cure mancate per il 50% delle casistiche. Torniamo a parlare di Medio Etruria, una questione ancora che fa davvero molto discutere. Noi ne abbiamo parlato con il Comitato Sava che adesso è intenzionato a chiedere gli atti del tavolo ministeriale. Sarà a Creti e non a Rigutino questa l'indicazione di RFI per la stazione Alta Velocità, una scelta che in provincia di Arezzo ha creato non poco malcontento. Piove sul bagnato diciamo noi del Comitato e il gruppo scientifico sta analizzando per la verità chiesto in via di urgenza tutti gli atti del tavolo tecnico riunitosi lo scorso venerdì primo dicembre perché sarà analizzato dagli esperti che abbiamo in qualità di Comitato per quanto escluso dal tavolo tecnico anche quali meri uditori indetto proprio per comprendere le ragioni di questa che a parere del Comitato che parla in nome conto di oltre 7 mila pendolari quindi vede una scelta a dir poco folle scelerata in una località quasi desertica dove purtroppo non si realizzano i presupposti oggettivi della mobilità sostenibile e quindi siamo in attesa di verificare quello che i tecnici del tavolo ministeriale hanno così sentenziato. Voi avete anche scritto una lettera al governo Meloni perché qual è il contenuto? Abbiamo chiesto al presidente del Consiglio l'onorevole Giorgia Meloni di esercitare la sua precipua funzione di controllo sull'operato di questo tavolo tecnico e su quanto finora maturato proprio perché non ci capacitiamo ancora di come vogliano realizzare una stazione di così impatto anche ambientale in una zona non antropizzata là dove si realizza la carenza di un presupposto secondo noi fondamentale cioè la intermodalità gomma-ferro-ferro. E anche il mondo economico aretino si esprime, rivendica Arezzo con la collocazione di Rigutino come scelta migliore per la nuova stazione dell'alta velocità, la scelta di Creti si legge in un comunicato non è comprensibile oltre che essere inutile e addirittura dannosa. Se per avere la nuova stazione scrivono appunto Confartigianato, CNA, Confesercenti, Confcommercio, Coldiretti, Confagricoltura e Cia a 40 km di distanza Arezzo deve rinunciare alle già esigue fermate dei treni Frecciarossa in città allora grazie tante ma conviene non fare nulla, sarebbe come tornare indietro nel tempo. E non è soddisfatto neanche il comitato dei pendolari, in questo caso del Valdarno per l'esito della riunione tra la Regione Toscana e i sindaci del Valdarno Fiorentino. Sentiamo perché nel prossimo servizio. Sconcerto e indignazione sono le prime reazioni dei pendolari del Valdarno all'esito dell'incontro fra la Regione Toscana, i sindaci del Valdarno Fiorentino, RFI e Trenitalia. Era noto da oltre un anno che fossero disastrosi i dati sulla puntualità dei treni regionali sulla linea Aretina afferma il portavoce del comitato pendolari Valdarno Direttissima, Maurizio Darè. Già alla riunione dell'8 febbraio scorso si erano constatati i forti ritardi e i crescenti disagi. Ci avevamo proposto anche alcune soluzioni a cui la Regione non ha mai dato risposta. È inaccettabile, sottolinea Darè, che la Regione prospetti adesso la soluzione dello spostamento dei treni dalla direttissima alla linea lenta con un aumento dei tempi di percorrenza di ben oltre 8-10 minuti. Risolvendo così le interferenze, gli inchini, dice Darè come noi li chiamiamo, con i treni dell'alta velocità. Il portavoce del comitato è anche stupito del fatto che la Regione non parli di rimborsi. A febbraio, afferma ancora, avevamo chiesto alla Regione di rivedere le regole per consentire almeno i rimborsi ai pendolari, ma non ci sono state date risposte. Una lettera firmata dal Presidente del Consiglio Comunale di Arezzo, Luca Stelle, dal Sindaco in persona, Alessandro Ghinelli, indirizzata ai capigruppo di maggioranza e ai coordinatori provinciali dei partiti che sostengono appunto la Giunta. La lettera sarebbe partita a fine novembre. Il motivo è proprio la difficoltà manifestata nelle recenti sedute del Consiglio Comunale di Arezzo nel garantire il numero legale in avvio e durante l'approvazione delle pratiche. Quindi una sorta di richiamo, una raccomandazione appunto da far arrivare ai consiglieri comunali di maggioranza, in questo caso dei gruppi della Lega, di Fratelli d'Italia, di Forza Italia, di Ora Ghinelli, in vista delle prossime sedute che sono fissate per il 18 e il 21 di dicembre. Insomma, vedremo quali saranno i risultati di questa lettera. E adesso invece parliamo delle proteste davvero giustificate di commercianti e ristoratori, ma anche baristi che si trovano in particolar modo nella zona di Via Madonna del Prato perché hanno dovuto subire più volte un blackout durante i giorni della città del Natale. Chiara Sadotti. Tutti i locali di Via Madonna del Prato, Via dei Redi, Via dei Cenci e zone limitrofe senza corrente, per un tempo stimato di quasi due ore. Sono rimasti senza energia elettrica nel pieno della città del Natale. Senza posse, senza luce, quindi nelle strade del centro storico anche la luce naturale non ci aiuta e quindi dipendenti con le braccia incrociate. Insomma, un momento un po' triste. Due blackout nelle giornate di domenica 3 e venerdì 8 dicembre, nei giorni di maggiore affluenza turistica nel cuore del centro storico. In un periodo così importante come questo direi che è un po' un problema. Un'ora e mezzo senza luce che ha mandato in tilta anche le cucine dei locali all'ora di punta, in Via Redi, in Via Madonna del Prato e in Via San Francesco, circa 600 i coperti così sfumati. Immaginate tra i nostri clienti, clienti è una strada di tutti i ristoranti, che all'improvviso si sono dovuti alzare perché non c'era la luce. Il disagio maggiore l'hanno avuto gli avventori, nonché clienti, nonché turisti, che tanto amiamo, che vengano nella nostra città, che si sono ritrovati senza mangiare, con bambini piccoli e quant'altro. Gli esercenti della zona, una trentina di attività, hanno già scritto al sindaco Alessandro Ghinelli. Bisogna considerare che quando a una cosa gli si fa tanta pubblicità, la gente viene. E non puoi partire dal presupposto, pensavo ne venisse meno, no. Bisogna partire dal presupposto, pensavo ne venisse ancora di più. Una soluzione provvisoria al problema, dopo le segnalazioni dei blackout, sembra essere arrivata dalla società che gestisce la rete di media e bassa tensione, che ha già avviato le attività di ispezione tecnica per tutte le verifiche del caso. Noi paghiamo bollette salate, molto salate, e ognuno di noi ha propri kilowatt e non sono pochi. Quindi se, come ci hanno detto, in via ufficiosa si sono attaccati tutti a una stessa centralina, è logico che poi dopo il disservizio succede. Ristoratori e negozianti restano comunque preoccupati per il prossimo fine settimana, minacciando la serrata se la situazione dovesse ripetersi di nuovo. Dovesse accadere, io sono non pronta, prontissima, non alla serrata, solo noi, ma mi auguro che tutta la città risponda. Perché non è solo una parte di attività che va in difficoltà. Andando in difficoltà noi, le altre attività hanno un sovraccarico, comunque essi stessi, per dare un servizio che non sono in grado di dare. Si terrà venerdì prossimo, 15 dicembre, al 17, presso il Centro di Aggregazione Sociale e Tortaia, un incontro pubblico dal titolo Per la Pace, per la Palestina. Sin dall'inizio delle ostilità, le più importanti organizzazioni italiane che si occupano di cooperazione e solidarietà, chiedono alla comunità internazionale, al governo italiano, a tutte le forze politiche, di fare l'impossibile perché tacciano le armi subito per evitare nuove vittime civili. In questo caso l'incontro sarà introdotto dalla Presidente dell'Arci di Arezzo, Federica Ettori, e poi moderato da Francesco Romizzi. È stato nuovamente eletto all'unanimità Presidente di ANAP Toscana, l'aretino Angelo Galletti. Al suo terzo mandato sono stati poi nominati due vicepresidenti, Claudio Bonfanti, vicepresidente Vicario, e Lido Lascialfari e coordinatore regionale Stefano Tosi. Sono onorato, ha detto Galletti, di poter proseguire il mio impegno come presidente di ANAP Toscana, un'associazione che fa sistema mettendo al centro la persona e che da sempre è impegnata nella tutela dei diritti degli anziani e delle fasce più deboli della popolazione. A proposito di diritti, si è parlato di istruzione e lavoro come due diritti sanciti e garantiti dalla nostra Costituzione nell'incontro di educazione civica che andrà in onda questa sera su Arezzo TV, incontri organizzati, come sappiamo, dall'associazione Intratevere e Tarno. Sentiamo allora appunto meglio di che cosa parleremo. È uno dei problemi, dei grandissimi problemi del nostro paese. Però già il fatto di parlarne nelle scuole, cioè di cercare una strada almeno a livello teorico di approfondimento per l'appunto culturale, per far sì che i due mondi, istruzione e lavoro, possano in qualche maniera incrociarsi, credo che sia una buona cosa. Superare il mismatch, ossia letteralmente la corrispondenza mancata tra le competenze acquisite nel sistema di istruzione e formazione e il mondo del lavoro. All'Iceo Piero della Francesca di Sansepolcro, un intervento organizzato dall'associazione Trattevere e Tarno, che sta portando avanti nelle scuole e a rettine un viaggio nell'educazione civica. C'era una platea cospicua, ben nove classi del quarto anno, che è proprio l'anno più importante, forse per cominciare a ragionare in termini di orientamento e di autoorientamento. Sono stati molto attenti, molto partecipi e il nostro intervento è stato suddiviso in due parti, una più teorica, più orientata all'educazione civica con un taglio relativo all'istruzione e al lavoro nel dettato costituzionale, nella nostra Costituzione, e una seconda parte invece a carattere informativo su questa realtà emergente, sempre più importante, degli istituti tecnologici superiori, per i quali vi è una vera e propria riforma in atto, di cui si parla molto magari negli ambienti di settore, tra addetti ai lavori, ma non se ne parla forse abbastanza, o nella maniera giusta, proprio ai destinatari effettivi, cioè ai ragazzi. E' evidente che su un paccoscenico così grande non è detto che sia arrivato a tutto, però secondo me lo stimolo di pensare che esiste anche un altro mondo, che è istruzione, ma che porta anche prima al lavoro, va bene, visto la difficoltà a trovarlo, penso che sia giunta. Taglio del nastro domenica 17 dicembre, poi apertura al pubblico lunedì 18, per la nuova sede della farmacia comunale di Pieve al Toppo, in via dei Boschi 242, nel comune di Civitella in Val di Chiana, alla cerimonia. Sarà presente insieme alle autorità il presidente dell'azienda speciale Civitella, Gilberto Dindalini, e il sindaco di Civitella in Val di Chiana, Andrea Tavarnesi. Siamo alla pagina della Cultura, visite speciali per gli affreschi della leggenda della Veracroce di Piero della Francesca. Sentiamo perché e quando nel prossimo servizio. Stare letteralmente all'altezza di Piero. Sarà possibile con visite straordinarie al cantiere di mantenimento degli affreschi della leggenda della Veracroce di Piero della Francesca, conservati nella Cappella Bacci all'interno della Basilica di San Francesco ad Arezzo. Sarà appunto possibile ammirare all'altezza degli affreschi i lavori di manutenzione e revisione conservativa. L'intervento prevede la rimozione delle consistenti quantità di polveri e particellato atmosferico che si sono depositati sulle superfici dipinte e la verifica dello stato di conservazione della pellicola pittorica, al fine di evitare problemi tipo sollevamenti di stacchio o solfatazione che potrebbero mettere a grave rischio la conservazione dei dipinti. Il cantiere comprenderà anche il restauro della Grande Croce dipinta risalente all'ottavo-nono decennio del 200 e attribuita ad un pittore umbro noto convenzionalmente come maestro di San Francesco e della bifora vetrata. I lavori partiranno il 10 gennaio a cura della Direzione Regionale dei Musei della Toscana che per l'occasione ha deciso di allestire un ponteggio accessibile che offrirà ai gruppi di visitatori l'opportunità di ammirare il ciclo dei dipinti da una prospettiva assolutamente diversa e inedita. Insieme alla Fondazione Arezzo in Tour che gestisce i servizi museali dei musei statali a retini sono state quindi organizzate delle visite speciali. Sarà possibile effettuarle dal 27 gennaio al 12 marzo accompagnati da una guida esperta avranno la durata di circa un'ora e saranno prenotabili sul sito museiarezzo.it Ultimo appuntamento domenica prossima con i Dandy Days di questo 2023 all'interno della città del Natale lo stile retro sarà il filo conduttore di questo incontro ma spiegano gli organizzatori l'evento avrà appunto il suo concetto che poi sarà comunque dilatato all'infinito e che comprende anche periodi storici più recenti il gusto e le ruone maniere di fatti sono talenti che appunto sanno attraversare il tempo tra gli appuntamenti in calendario alle 18.30 l'esclusivo per entrare nella storia la vivacità dei Dandy e delle Lady accompagnata da brindisi e degustazioni e a proposito di degustazioni non perdetevi quella dei Ricciarelli targati Menchetti perché insomma hanno davvero una storia particolare sentiamo Non ci sono segreti nel Ricciarello l'importante è usare materie prime di qualità come facciamo noi che sono mandorle rigorosamente italiane bollite poi macinate con lo zucchero e impastate con del miele della scorza d'arancia candita e un pochino di lievito e poi vengono cotte nel forno a piani e quindi si ha un grande Ricciarello che chiaramente a differenza del panforte va mangiato fresco e quindi se non vogliamo caricarlo di conservanti quindi il nostro Ricciarello ha una scadenza di 30 giorni è piuttosto breve però io non ci credo che non hai almeno un bel aneddoto natalizio per i tuoi Ricciarelli dai Marco apri il cassetto dei segreti e dei ricordi per fortuna avevo casa accanto alla scuola e quindi eravamo all'elementari che già suonavo la campanella uscivo da scuola e io subito durante il primo natalizio sentivo il profumo nell'aria perché avevamo i cammini del forno proprio a 50 metri dalla scuola e quindi non vedevo l'ora di tornare a casa di stare insieme a mia nonna e mettermi lì nel forno al caldino perché l'inverno il caldo fa comodo e lavorare tutti i dolci natalizi Marco, una piccola curiosità ma come mai hanno questo aspetto con tutte queste crepe sopra? perché le mandorle sono macinate da noi grossolanamente e perché vengono lavorate a mano se fossero lavorate a macchina chiaramente il Ricciarello non ce la farebbe ad aprirsi e vengono cotte in un forno a piani ringrazio assolutamente ci resta semplicemente di fare gli auguri di un serenissimo Natale di buonissima festa a tutti i nostri spettatori grazie a tutti, auguri e ti invito alla prova all'assaggio grazie, assaggio più che volentieri ancora tanti auguri e grazie a tutti auguri a tutti, grazie il miglior appiazzamento è stato registrato dai due atleti appunto della ginnastica Petrarca che vedete in foto che accompagnati da Alessandro Sadocchi sono scesi in pedana nel campionato di squadra della categoria allievi LC dove hanno meritato appunto il terzo gradino del podio è tutto per questa edizione del nostro telegiornale io vi lascio come già detto alla nostra lezione di educazione civica organizzata da Intratevere e Tarno si parlerà di lavoro e istruzione come diritti sanciti e garantiti dalla nostra carta costituzionale grazie, arrivederci